Felice ancor io sono, se abbracciarti possio, io ti salvai. Convien cui dirci, convien cui dirci addio, O mio Carlo, per me è giunto il Dio supremo, Noi più ci rivedremo, ci congiunga il Dio nel Cielo, E che premia i suoi fedeli. Sul tuo ciglio il pianto io miro, Lagrimar, lagrimar così perché No facò, no facò l'estremo spiro, L'estremo spiro, lieto è qui, A qui vorrà, vorrà per te. No facò, no facò l'estremo spiro, L'estremo spiro, lieto è qui, Morrà per te. L'estremo spiro, lieto è qui, Morrà per te. L'estremo spiro, lieto è qui, O Carlo, ascolta, la madre, Aspetta a San Giusto, domani, Tutto ella sa, Alla terra mi manca, E parlo mio a me forgi l'amare, Io morro, lieto in cuore, E potrei così servar, Alla stagna un salvatore, Di me non ti scordare, Di me non ti scordare, Sì, regnare tutto bevi, Ed io morir per te, E ai, Io morro, Ma lieto in cuore, Che potrei così servar, Alla stagna un salvatore, Di me non ti scordare, Ah, la terra mi parla, La mano a me, a me, Ah, salva la fiandra, Carlo, addio a me. La terra mi manca, Se voi critici li criticate, io ascolto, ho sempre fatto e non mi sono neanche mai arrabbiato, a meno che non ci sia un preconcetto, c'è sempre, anche se io con la coda di paglia potrei non accettarla, una verità. Mi pare che ci sia un'altra caratteristica del suo studio proprio accanito e tecnico, che è quello di cercare immediatamente, mentre studia tecnicamente, il senso della parola, il senso della parola drammaticamente in quel momento. Ci sono dei colori che una voce della sua regolarità di solito non raggiunge, che possono essere giustificati, cioè la riuscita, la si può capire, se aveva veramente lo scopo di dire quella cosa in quel modo. Ho avuto la fortuna di cantare tanti anni fa, di saglieri, prima le parole e poi la musica. Ho a casa la fotocopia statica del rigoletto di Verdi, non c'è una nota d'orchestra, c'è di tanto in tanto qualche accordo, ma non per pianoforte, accordi naturalmente fatti così. Quindi solamente la linea del canto. Verdi, vedendo le prove, normalmente metteva la strumentazione. La strumentazione serviva ai colori. Quindi è tutto un gioco per dire che se noi facciamo cultura, la vera cultura dov'è? Nella parola.